Gesù sta formando i suoi discepoli per la missione. La preparazione non è scontata. I discepoli devono essere loro per primi segno della vita nuova annunciata. Domenica scorsa il ritornello della predicazione di Gesù era non abbiate paura. Oggi invece le sue parole riguardano la qualità dell'amore che si realizza concretamente nelle diverse relazioni nell'autentico amore. È facile sbagliarsi nell'amore. Spesso noi diciamo di amare una persona. In realtà amiamo solo noi stessi e cerchiamo da quella persona la gratificazione perché bella, piacevole o piena di qualità. Eric Fromm nel suo libro L'arte di amare distingue tra il dire ti amo perché ho bisogno di te e dimmi invece ho bisogno di te perché ti amo. Qual è la differenza? La motivazione. Viene prima il mio bisogno o l'amore? La frase giusta è invece siccome ti amo ho bisogno di te affinché con te e per te si realizzi il nostro amore. Ma la fonte dell'amore vero è Dio. Solo in Cristo amiamo veramente le persone perché Lui è il modello del vero amore e Lui ci dà anche la capacità di viverlo perché ci è liberati dal peccato che è sempre la negazione dell'amore. Se l'amore non parte da Dio il discepolo anche se pensa di far il bene non sta amando nel suo nome. Per questo Gesù per tre volte dice non è degno di me. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il suo figlio e la figlia più di me non è degno di me. Chi non porta la mia croce e mi segue non è degno di me. Sembra un'affermazione esigente e severa ma in realtà chi è degno dell'amore di Dio? E' esso assolutamente gratuito, inaspettato, non dovuto, oltre le nostre capacità. Possiamo solo riceverlo e custodirlo. Un po' come l'aria, ma ce la siamo meritata, costruita, data da noi stessi. Ci è donata. Possiamo custodirla, tenere pulita, perché ci è assolutamente necessaria per vivere. La potenza dell'amore di Dio è stata seminata in noi nel giorno del battesimo, nel quale siamo diventati creature nuove, morti a peccato e viventi in Dio, come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura. Un amore che segue la logica del seme. Morire per dare frutto. Perdere per ritrovare. Seminare per accogliere. Morire cioè il nostro egoismo, egocentrismo, narcisismo, per far fiorire l'amore vero, autentico, in Cristo. Gesù ci insegna a saper morire in tutto questo, per imparare a vivere e amare veramente. Dopo averci fatto questo insegnamento, Gesù ci parla di accoglienza, l'altro aspetto che contraddistingue l'amore del discepolo. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. In poche righe troviamo sei volte il verbo accogliere. Qui però il termine è riferito all'accoglienza del discepolo da lui mandato ad annunciare il Vangelo. Quando si accoglie l'uomo di Dio mandato da Cristo, c'è sempre una fecondità di vita. Anche un solo bicchiere d'acqua fresca dato al discepolo da lui mandato non rimarrà senza ricompensa. E viceversa, la non accoglienza di colui che ha mandato ci preverà della sua presenza e della sua benedizione. Buona domenica.